E' un weekend di attesa per la palla a spicchia di Avellino. La Delfes attende la decisione da parte del Consiglio federale in programma per il prossimo 28 luglio in merito al passaggio del titolo della Fortitudo Roma. L'accordo tra la Delfes e la società neopromossa in terza serie è stato definito da giorni, ma i tempi e i modi saranno valutati dalla FIP. La Liga Nazionale Palla Canestro ha inserito la Fortitudo Roma senza se riesco nella griglia di partenza della Supercoppa di categoria, ma allo stesso tempo considera la Delfes Avellino e non il club capitolino per la partecipazione al girone di terza serie nazionale 2021-2022. Ragion per cui la LNP ha dato il via libera, ma tutto passa dal settore agonistico della FIP e appunto dal Consiglio federale. Saranno giorni d'attesa per la cordata guidata da Gennaro Canonico insieme al sindaco di Avellino Gianluca Fesse di presentare una squadra ai prossimi nastri di partenza del campionato di serie B dopo la retrocessione a Mara in serie C-Gold della Scandone Avellino.